Il Buddha, rinomato per la sua saggezza, una volta sottolineò l'influenza delle nostre azioni e ci esortò a seguire il nobile sentiero della condivisione della ricchezza, dicendo che se abbiamo poco, dobbiamo dare poco. Se possediamo una quantità media, donare una quantità media. Se abbiamo molto, dare molto. Non è giusto non dare nulla. In questo video, approfondiamo i profondi insegnamenti del Buddha sulla condivisione della ricchezza e il potere di trasformazione che essa detiene nelle nostre vite. Oggi condividerò una storia che riflette la saggezza senza tempo di Gautama Buddha, una storia sul profondo impatto della condivisione della ricchezza e su come essa abbia il potere di trasformare la tua vita. Questo racconto illuminerà il percorso verso l'abbondanza finanziaria attraverso la generosità. Mentre camminava con i suoi discepoli, il Buddha si imbatté in un villaggio dove decise di rimanere per un paio di giorni. Tra i suoi discepoli, questa notizia si diffuse rapidamente nel villaggio. Gautama Buddha era venuto nel loro villaggio. Sentendo ciò, le persone cominciarono ad andare a vedere il Buddha e a chiedere soluzioni ai loro problemi. Il Buddha, nel frattempo, stava dando loro tutte le soluzioni ai loro problemi. Nel frattempo, un abitante del villaggio disse al Buddha «Oh Signore, tutti noi nel villaggio guadagniamo da vivere lavorando sodo e ringraziamo l'Onnipotente per tutto ciò che ci ha dato. Ma c'è una persona nel nostro villaggio, di nome Peter, che non fa alcun lavoro e continua a incolpare l'Onnipotente per la sua povertà. Continua sempre a imprecare e a insultare l'Onnipotente. Se proviamo a fermarlo, inizia ad abusare anche di noi. Non capiamo cosa fare». Il Buddha rispose con un sorriso «Ragazzi, per favore portatemelo». Un abitante del villaggio disse «Oh saggio, quella persona è molto scortese, potrebbe anche abusare di te e non possiamo vederlo insultarti, quindi non è appropriato chiamarlo qui». Il Buddha sorrise e disse «Non preoccuparti, portalo qui. Digli che posso risolvere il suo problema». Dopo aver ascoltato il Signore Buddha, alcuni uomini del villaggio andarono a chiamarlo. All'inizio, quella persona si rifiutò di andare dal Buddha e disse che tutti questi saggi sono ipocriti, sono tutti falsi e non andrà da nessuno. Ma quando alcuni abitanti del villaggio, Gili, dissero che il Buddha poteva risolvere il suo problema, acconsentì ad avvicinarsi al Buddha. Quella persona fissò il Buddha e disse «Dimmi, qual è il problema? Perché mi hai chiamato qui? Cosa vuoi dirmi? Vuoi anche tu che non abusi dell'Onnipotente? Perché non dovrei abusare dell'Onnipotente? Cosa ha dato a me? Mi ha dato questo corpo inutile? Ma i soldi servono anche per il corpo? Perché l'Onnipotente non mi ha dato i soldi? Cosa dovrei fare con questo corpo inutile? Se puoi risolvere il mio problema con i soldi, allora va bene, altrimenti fai le valigie e vattene. So che tutti i monaci sono falsi». Il Buddha stava sorridendo invece di arrabbiarsi dopo aver sentito le parole di quella persona. Il Buddha disse alla persona «Mio amico, non ti sto chiedendo né di credere nell'Onnipotente né di non credere in lui. La causa della felicità e del dolore di una persona è il suo karma. Ecco perché, invece di maledire qualcun altro, se lavori duro, allora il tuo problema di soldi può essere risolto». Peter, tuttavia, non era ricettivo. Si fece beffe delle parole del Buddha, liquidandole come semplici lezioni e accusando il saggio di ipocrisia. Il motivo principale della sua venuta era stata la promessa di assistenza finanziaria e si sentì tradito dal Buddha. Percependo la resistenza di Peter, il Buddha decise di adottare un approccio diverso e parlò di un re in una terra lontana che aveva un figlio nato cieco. I consiglieri del re credevano che gli occhi di una persona vivente potessero curare la cecità del principe. Il Buddha disse a Peter «Sei disposto a offrire i tuoi occhi al figlio del re? Il re ti ricompenserà con monete d'oro pari al tuo peso. Con quella ricchezza potrai vivere una vita prospera». La rabbia di Peter divampò e rifiutò categoricamente, dichiarando che i suoi occhi avevano un valore inestimabile e non si sarebbe separato da loro per nessuna somma di ricchezza. Il Buddha allora gli fece una richiesta più modesta, chiedendo se Peter fosse disposto a donare uno dei suoi occhi in cambio di una sostanziosa ricompensa da parte del re. La risposta di Peter rimase ferma. Non rinunceresti nemmeno a un solo occhio, indipendentemente dalle ricchezze offerte. A questo punto, il Buddha osservò gentilmente che aveva definito il suo corpo inutile, ma ora chiamava i suoi occhi «inestimabili». «Considera questo. I tuoi occhi non sono che una frazione del tuo corpo. Se i tuoi occhi sono veramente inestimabili, può il tuo corpo essere considerato del tutto inutile?» Queste parole colpirono una corda dentro Peter. Una realizzazione si manifestò in lui come un raggio di sole che penetrava attraverso le nuvole più scure. Le lacrime sgorgarono dai suoi occhi e cadde in ginocchio davanti al Buddha, singhiozzando. Il Buddha, con infinita compassione, sollevò Peter e disse «Caro amico, la natura ci ha concesso questo dono prezioso, il nostro corpo umano. Spesso ne. Trascuriamo il valore maledicendoci per ciò che ci manca, ma oggi hai riconosciuto il valore dei tuoi occhi. Ricorda che tutto ciò che riceviamo gratuitamente è spesso il più prezioso tra tutti. Dobbiamo essere grati per questo prezioso dono della vita». In quel momento ebbe luogo una trasformazione in Peter. Si tolse il mantello di amarezza e abbracciò la profonda saggezza impartita da Gautama Buddha. Mentre Peter stava lì, lacrime di realizzazione gli irrigavano il volto. Sentì una profonda trasformazione dentro di sé. Il peso dell'amarezza e del risentimento che aveva portato per così tanto tempo si allontanò, sostituito da un senso di gratitudine e accettazione. Capì l'inestimabile dono della vita e l'importanza di apprezzare ogni momento. Da quel giorno in poi, Peter divenne un faro di positività e generosità nel villaggio. Non solo lavorò diligentemente per migliorare la propria vita, ma tendeva anche una mano a chi era nel bisogno. Le sue azioni incarnavano la saggezza dell'insegnamento del Buddha, secondo cui la vera ricchezza non si misura nei possedimenti materiali, ma nella ricchezza del proprio cuore e nella volontà di condividere con gli altri. La notizia della trasformazione di Peter e il suo ritrovato spirito di donazione si diffusero in tutto il villaggio, ispirando gli altri a seguire le sue orme. La comunità, un tempo divisa e travagliata, iniziò a prosperare unita dai principi di compassione e gratitudine. E così nacque la storia di Peter e gli insegnamenti di Buddha divennero una parabola senza tempo che ricordava alle generazioni a venire che il percorso verso la felicità e la realizzazione non consiste in ciò che possediamo, ma nel modo in cui condividiamo e apprezziamo il prezioso dono della vita stessa. Il viaggio di Peter serve come testimonianza del potere della trasformazione interiore e del potenziale di cambiamento positivo che risiede dentro ognuno di noi. Alla fine, questa storia ci insegna che la vera ricchezza non si trova nell'accumulo di ricchezze, ma nell'abbondanza di un cuore generoso e nell'apprezzamento del dono più inestimabile della vita, il dono di essere vivi. Se hai trovato ispirazione in questa storia, sostienici premendo il pulsante Mi piace, condividendola con i tuoi amici, e lasciando un commento qui sotto con i tuoi pensieri o qualsiasi storia zen che vorresti ascoltare. E per ulteriori momenti di motivazione e tranquillità, non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella. Il tuo impegno alimenta il nostro viaggio. Grazie per aver percorso questo sentiero di saggezza e illuminazione. Ti auguro di vivere in pace per sempre e ti aspetto sempre qui sul canale Il Segreto del Samadhi. A presto!